A 500 metri tutti insieme, tutti insieme, Bosco conduce, poi c'è Angelo, Meloni, e poi c'è Panella, Angeli, Caume, Giovanni, Odorici, tutto giù, ancora tutto giù. Primo chilometro, ed eccolo Francesco Bosco. Ecco Panella, Buono, Buono! Precima di a me, dai Mauro, Al Raule, mi guardo qui. Vai Ropè, vai Ropè, dunco a là, dunco a là Ropè! Grazie a tutti Siamo a quattro Secondo chilometro, quarto giro Forza, forza, sette zero dieci, undici, forza, dai così, quindici, forza 7.26 Mariano 7.32 7.34 Forza 7.36 Grazie 7.58 Grazie Paolo 8.02 Forza 8.16 4.08 Eccolo là il primo 2.5 km 8.28 Un giro a termine Forza Selezione fatta ormai E' andata 6.100 m E ma qui se succede qualcosa Che segna Per l'altro ha mollato Questo lo sta a cacciare Sì sì C'è un duello tra il secondo e il terzo Vai 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 che va bene Vai vai Sotto a qui Quarto Siamo ai tre chilometri Vieni la fascia Vieni la fascia Vieni la fascia Ultimo giro Ultimo giro Quinto Dai tutto Cazzinita Sesso Ultimo giro Settimo Ottavo Bravissima Ultimo giro Nono Ultimo giro Decimo Undicesimo Undicesimo Dodicesimo Primo Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Primo Tredicesimo Doppiato Che è riposato E insomma Come andata Bene 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 Ma volevo prendere più con Ma non mi so risparmiarlo Perché vale la pena Tenere sempre alti i colori orange Ok Grazie Come andate a me La donna 27 Mettete il nastro dopo De Luciano Mettete il nastro 11 e 44 Ma l'ho fatta io questa Era troppo forte Simula Ma l'ho fatta qua a 2.000 Ma tu devi fare 11 e 55 Grande Paolo 12 e 7 12 e 18 Quanto? 12 e 18 Grazie a tutti.